Mercedes Bresso, primo vicepresidente del Comunato delle Regioni e relatrice del parere sulle prospettive finanziarie 2014-2020. Oggi il Comunato ha aggiornato il suo parere con una risoluzione. Quali sono le principali preoccupazioni delle regioni europee rispetto al negoziato sul prossimo bilancio dell'Unione? Le preoccupazioni sono molto aumentate perché nel nostro parere noi iniziavamo a preoccuparci delle proposte di modifica della Commissione che andavano in riduzione, formalmente in aumento perché si aggiungevano i soldi per la Croazia, di fatto in diminuzione perché non si aggiungevano tutti quelli necessari. La preoccupazione è ovviamente molto aumentata dopo le proposte in sequenza della Presidenza Cipriota che hanno iniziato a prevedere una settantina di miliardi di taglio, quelle della Presidenza del Consiglio Europeo, del Presidente Van Rompuy che hanno ulteriormente aumentato le prospettive di taglio modificando alcune cose e il non risultato, la non approvazione neanche di questa versione al Consiglio Europeo che tra l'altro allarga il conflitto fra Parlamento e Consiglio Europeo, diminuisce le possibilità di trovare rapidamente un accordo e mette a forte rischio le principali politiche dell'Unione Europea, la politica di coesione, la politica regionale e la PAC, ma mette anche a rischio la politica della ricerca, quindi insomma i tre grandi filoni della politica europea. Avete lanciato un allarme sulla quantità di risorse che rischia di non essere adeguata rispetto agli obiettivi, ma anche sui tempi, sui tempi poi per passare alla programmazione vera della nuova fase. Qual è il percorso da questo punto di vista? Allora, sulla quantità di risorse perché poi il bilancio complessivo, come noto, viene distribuito sui sette anni e sulle diverse politiche. Alla fine il rischio è che su singole politiche, ad esempio quelle per le regioni in transizione o quelle per le regioni della competitività, si scenda sotto un livello di efficienza poi per utilizzare le risorse, perché se i costi della programmazione, la fatica della programmazione sono minati dalla scarsità delle risorse, evidentemente anche le prospettive dei risultati sono scarse. Non dimentichiamo che queste risorse dovrebbero proprio, ricentrate sui grandi obiettivi di Europa 2020, essere quelle che consentono alle regioni d'Europa, alle regioni e le città d'Europa di uscire dalla crisi con un'economia profondamente rinnovata nelle direzioni che sono state individuate, green economy, tecnologie dell'innovazione dell'ICT, capacità inclusiva dell'Europa, quindi diciamo smart e sustainable. Questo vuol dire però cambiare radicalmente le nostre economie che non vanno affatto in quella direzione, le nostre attività. I tempi sono altrettanto preoccupanti perché in particolare i fondi strutturali devono essere programmati, quadro strategico che deve essere nazionale, poi a sua volta con i POR, con i piani regionali. Quindi tutto questo va fatto entro l'inizio del 2014, entro il 2013. Quindi se a breve non si definiscono le risorse, non si può partire con la programmazione e nel 2014, proprio quando l'economia europea dovrebbe cominciare a mostrare qualche piccolo segnale di ripresa, non ci sarà il sostegno delle importanti risorse di investimento che sono europee. Sappiamo che la maggior parte dei paesi ha difficoltà di bilancio in questo momento, quindi le risorse europee sono essenziali per rilanciare gli investimenti. Se non ci sono nel 2014 si perde molto del senso dell'urgenza di una politica. Per la prima volta in quasi 20 anni il nuovo bilancio sarà un bilancio di tagli, sarà inferiore a quello precedente. In Italia chi rischia di più? Quali regioni, quali enti, quali categorie che possono beneficiare dei fondi strutturali? In questo momento sono più a rischio con i tagli. Intanto il fatto che per la prima volta rischi di essere un bilancio di tagli la dice lunga sulla assenza di visione dei nostri governanti. Proprio in questo momento un bilancio che è tutto di investimenti dovrebbe essere rafforzato. Si devono giustamente tagliare i bilanci di funzionamento, di spese correnti, ma non quelli di investimento. Qualunque regola economica dice questo. In Italia chi rischia di ipatia? Intanto le piccole e medie imprese che puntano molto sulle risorse europee per riadattarsi alle mutate condizioni dell'economia mondiale. Non dimentichiamo che noi usciamo, se usciamo, usciremo da questa crisi con un panorama mondiale dell'economia completamente cambiato. I nuovi mercati cambiano i mercati, cambiano quindi anche le esigenze dei nuovi consumatori, che vuol dire riadattare le aziende. Le piccole e medie aziende in particolare sono quelle che più contano sui fondi europei per le proprie politiche di innovazione e ricerca. In secondo luogo le nostre università, che sui fondi europei per la ricerca puntano moltissimo, perché come è noto da noi sono scarsi invece i fondi pubblici per la ricerca. I lavoratori, noi abbiamo profonde ristrutturazioni nella nostra economia e quindi la necessità di riqualificare i lavoratori è enorme e il Fondo Sociale Europeo va proprio in quella direzione. E naturalmente se anche la PAC sarà tagliata rischiano le nostre imprese agricole e rischiano in particolare le imprese più grandi, che in Italia non sono molte, ma che nella pianura padana ci sono le imprese lattiero casearie, le aziende agricole lattiero casearie e le aziende risicole essenzialmente, ma anche alcune delle grandi aziende produttrici di cereali del sud. Le grandi che avranno un massimale di spesa che viene molto ridotto rischiano effettivamente di andare in crisi, in un momento in cui tra l'altro il made in Italia alimentare invece va molto bene, è una delle cose che tirano nella nostra economia. Quindi il rischio è che regioni e enti locali che pianificano i loro investimenti saranno chiamati a fare di più con meno? Certo, il problema è di più con meno si dovrà comunque fare perché è evidente oramai che non ci saranno le stesse risorse della volta scorsa. Il rischio è però che in certe regioni, le regioni piccole o le regioni della competitività, che quindi ricevono meno risorse, si scenda sotto un livello efficiente per gli investimenti, perché quando le risorse sono troppo poche, a quel punto tutta la complessità della programmazione che l'Unione Europea richiede rischia di essere veramente esagerata rispetto a una riduzione forte di risorse. rispetto a una riduzione forte di risorse.